Impostazioni su Apex Legends, ebbene quest'oggi parliamo delle impostazioni che sto utilizzando al momento ho già fatto su questo canale due video in cui parlo delle impostazioni fra virgolette di default delle sensibilità di default e delle sensibilità anche avanzate nel mio ultimo video vi mostravo le mie sensibilità che stavo utilizzando in quel momento ovvero le avanzate ho caricato nell'ultimo periodo dei gameplay e molti di voi si sono resi conto che in realtà non sto più utilizzando quella sensibilità che avevo fatto vedere nell'ultimo video e quindi mi avete chiesto di mostrarvi ad oggi che tipo di sensibilità utilizzo bene nel video di oggi risponderò a questa domanda io prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti detto questo direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare ebbene premessa ragazzi una cosa di cui mi sono reso conto che voi qui su youtube non sapete ma in realtà su twitch è da 5 mesi che si sa sono entrato a far parte di un team competitivo di Apex Legends ovvero i Vertex allora 5 mesi fa utilizzavo la sensibilità avanzata e nel momento in cui stavo giocando con un mio amico nonché uno dei capi dei Vertex stavamo facendo un 1v1 classico e mi ha chiesto che tipologia di sensibilità utilizzavo all'epoca ed erano le avanzate e insieme abbiamo dedotto che quella sensibilità per me non andava bene perché oltre ad essere molto veloce nel momento in cui andavo a sparare in hitfire smiravo tutto semplicemente e quindi mi fa nico secondo me c'è da provare questa sensibilità qui prova a giocare le classiche sensibilità quindi non le avanzate cambiamole e vedrai come ti trovi ecco da 5 mesi a questa parte io ho totalmente stravolto la mia sensibilità non gioco più le avanzate gioco questa sensibilità che state vedendo in questo momento ebbene nel movimento visuale mira gioco la 6 semplicemente perché ero abituato alle impostazioni avanzate in cui praticamente ce l'avevo al massimo 500-500 il movimento quindi diciamo che sono parecchio abituato a giocare con una sensibilità alta nel movimento quindi diciamo che ho messo 6 adesso in questo momento da due giorni nella sensibilità di mirino ho messo 5 prima stavo giocando a 4 questo perché mi sono reso conto che posso semplicemente alzarla perché in alcuni casi ho trovato che il mio controllo arma quando andavo a sparare con ad esempio un flatline facevo un pochino più fatica a controllarlo a media lunga distanza e con la sensibilità 5 basta che muovo molto di meno l'analogico e quindi riesco a controllare meglio il mio flatline ad esempio ho anche cambiato la mia curva di risposta che nel precedente video come vi avrò detto era stabile adesso l'ho cambiato l'ho messa a classica devo dire di trovarmi ci molto bene ovviamente la zona morta visuale resta ancora nessuna e la zona morta di movimento resta a piccola questo perché ho cambiato pad prima avevo un pad che ormai era un po' andato quindi dovevo avere la sensibilità della zona morta a grande adesso l'ho potuta mettere benissimo a piccola non ho alcun movimento quando sto fermo quindi sono felice di ciò mi soffermo anche a parlare velocemente del campo visivo e della luminosità io gioco un campo visivo che non è 110 è 102 molti giocano il 110 io personalmente preferisco un po' di meno ho giocato 108, 106, 102 sto un po' andando a scendere il 102 ecco penso che sia un ottimo compromesso tra larghezza di campo visivo e anche nello sparare quando c'avevo 110 che era il massimo smiravo tanto e quel 102 devo dire che mi trovo abbastanza abbastanza bene ovviamente movimento visuale in corsa minimo altrimenti l'arma vi balla tutta in mano ma comunque 102 secondo me è un buon compromesso provatela e fatemi sapere la vostra nei commenti per quanto riguarda la luminosità ce l'avete di default ecco aggiungeteci due tacche secondo me consiglio mio personale mi ci trovo molto meglio con le due tacche in più nella luminosità e nel prossimo video perché è un altro video che mi state chiedendo dovremmo parlare del reticolo ho provato vari reticoli varie colorazioni del reticolo penso di aver trovato il colore che più mi va bene quindi nel prossimo video parleremo appunto del reticolo comunque la premessa più grande che devo fare all'interno di questo video è che oggi ad oggi in questo video qui vi mostro solamente le mie sensibilità ma che non è detto che vadano bene anche per voi magari vi ci trovate male ecco nei miei precedenti due video lo so che sono un po' ripetitivo vi spiego appunto tutte queste impostazioni vi spiego ogni parte cosa significa come cambiarla per insomma trovarvi la vostra sensibilità ad oggi vi ho solo mostrato la mia e qui ci fermiamo quindi vi lascio in descrizione quegli altri due video noi ci rivediamo probabilmente domani anzi no probabilmente sicuramente domani con un nuovo video e da Robinson Crusaderzo adesso e solo per adesso è tutto un saluto e alla prossima e mi raccomando fate i bravi ciao